signore e signori benvenuti all'ora solare non mi riuscirà mai non mi riuscirà perché certe cose riescono solo a ragazze molto speciali molto speciali lei è una attrice conduttrice ma soprattutto signorina buonasera come lei davvero nessuna mai gabriella farinon nessuna mai nessuna mai è così signora farinon benvenuta ti faccio a rossire ma ben venga che io ti faccio a rossire perché sei tu oltre a tutte le cose che poi hai saputo fare ben oltre questo lavoro la signorina buonasera siamo tante le signorine buonasera sai che quando andiamo in giro solda udetti nicolette orsomando la gente ci saluta buonasera signorine buonasera signorina buonasera perché è una storia è una storia bellissima parte bellissima la storia di gabriella farinon tutta sera ma tu arrivi in rai nel 1961 61 per caso per caso perché è tutto stata casualità tolta una cosa la tua straordinaria bellezza perché quella chiaramente è stata no la calamita che ha fatto è stata una serie io credo di momenti uno dei momenti felici forse nella vita e così è capitato è capitato vi faccio subito però raccontare dovremmo avere una fotografia del primo giorno in rai di gabriella farinon che è una cosa voi la guardate e semplicemente ha accorciato un po i capelli insomma si è sistemata in altra maniera allora le signorine buonasera eccola qua guardatela come bella elegantona sempre 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 belle ed elegante le signorine buonasera avevano un contratto esatto che la dice lunga su quel tempo voi rappresentavate con quella azienda con la con la rai con la nostra casa della televisione e televisione in casa che è rappresentata proprio dalla dalla rai memoria storica tutto voi eravate chiamate e noi sul nostro contratto c'era voi siete l'immagine della rai quindi dovete avere un comportamento dignitoso non dovete mettere abiti che possano non essere più che consoni dignitosi e dovete rivolgervi al pubblico che è un pubblico semplice il pubblico che sta in campagna un pubblico che ha bisogno di capire quello che gli state dicendo allora non so se ma la notate la perfetta edizione di capriela farinon quindi perfetta edizione voi andavate a memoria non c'erano i cobbi ma andavamo a memoria su tutto perché sai tutto il palinsesto della serata a memoria no ma le signorine buonasera non facevano solo gli annunci noi facevamo anche presentavamo c'era non so da presentare gli amici degli anni Nicoletta cominciò con l'amico degli animali ecco poi io ho sostituito Enza San Po incordialmente quindi erano bene e proprie conduzioni che ti dovevi arrangiare preparare e presentare e presentare questo è allora dovete sapere che la signorina che bella scusami quella foto la posso avere dopo? è bella certo la posso avere dopo ma che tesoro un gattino una meraviglia di ragazza pensate che qui siete proprio voi amiche Sì beh sì siamo sempre state siamo sempre andate d'accordo Dacci nomi di queste di queste Nicoletta Orsomando la grande Nicoletta Anna Maria che purtroppo è mancata due anni fa è stata molto male ci sono io e Abba Cercato E Abba Cercato allora dovete sapere che Gabriele Farinon nella sua perfezione poi vi raccontiamo di come la sua carriera inizi per una passeggiata in piazza Navona a 17 anni in quel caso siamo ancora un po' prima è stata multata non è perché abbia fatto un cattivo sorpasso per strada è stata multata in Rai in qualità di signorina Buonasera perché? Perché a un annuncio di mezzanotte eravamo a Abba e Dio di turno io c'era una parrucca che girava nera vabbè senti l'annuncio di mezzanotte mezzanotte e mezza io lo facevo con la parrucca nera perché stannoiavamo anche ogni tanto e allora ho messo questa parrucca però il signor Mirino che era il nostro responsabile Mirino si chiamava? Si chiamava Mirino cioè mi metteva il Mirino che controllava la dizione soprattutto gli autori stranieri dovevano essere nominati con la pronuncia del loro paese quindi dovevi andare a consultare c'era un libro che consultava il libro c'era il nome e la giusta pronuncia ecco e lui e quella sera mi ha vista e ho avuto una sonora multa pensa è incredibile questa cosa no però è giusto perché se hai un ruolo hai un'immagine hai un look diciamo così e lo devi rispettare e che stavate com'era il vostro la vostra il vostro studio parlo solo dei lanci la stanza la stanza della signorina buonasera quindi a voi i programmi della serata com'era com'era strutturata? stavate in piedi? dunque sì quando lo c'ero io l'ho fatto dal 61 al 68 allora stavamo in piedi c'era un assistente di studio che ti inquadrava perché ti era più alta ti era un po' più bassa e al momento del di dire l'annuncio di e suonava un cicalino e tu iniziavi la tua performance come si gestivano come si gestivano i vuoti di memoria o il momento di aiuto? ma non c'era non c'era eravate bravi insomma non era poi così difficile allora eravamo tutte giovani e la memoria era fresca sì però è molto di più guardate io insisto su questa cosa era molto di più della memoria era intanto iniziava la serata con voi con voi si apriva non dobbiamo immaginare un palinsesto fatto di tutta la giornata piena cioè poi piano piano chiaramente i programmi no si iniziava dalla mattina dalla mattina con le scuole allora c'erano degli orari sì o facevi l'orario della mattina alle 8 allora iniziamo dall'inizio il contratto dell'annunciatrice era un contratto di categoria B di funzionario con mansioni di annunciatrice ecco poi ti veniva dato un rimborso trucco e un rimborso abiti ma non avevi niente ma perché vi truccavate da sole? sì le prime volte c'era un capo trucatore che ti insegnava e poi avevamo la nostra stanza il nostro angolo angolo dove tenere una camicia una cosa di riserva così ognuno aveva anche storia ecco e poi ci si truccava e l'annuncio è più bello quello proprio che tu dici che ho fatto? sì sì lo so è una domanda da un milione di dollari sì ma sai che non me lo ricordo no pensaci me lo racconti dopo me lo racconta me lo deve raccontare Gabriella Farinone allora attenzione ma sai una cosa che può riguardare sua santità il Papa ecco non so oppure un grande attore che viene a mancare insomma ci sono ci sono degli annunci che ti coinvolgono molto quando hanno sparato a Kennedy ecco quello è stato un annuncio sofferto ecco perché voi avete dato un annuncio di questa si interrompevano le trasmissioni si sono interrotti i programmi spiegavi perché le trasmissioni si interrompevano perché una cosa poi subentrava il giornalista ma in quel momento voi eravate il ponte eravate il ponte tra tutto quello che accadeva e tutto quello che sarebbe accaduto poco dopo allora una ragazza di 17 anni bella come la luce che si chiama Gabriella Farinone sta passeggiando per Piazza Navona e finestre spalancate signori mi lanci tu la pubblicità per favore no guarda quella è la tua camera ti prego no devo dire che stavano riprendendo appunto Piazza Navona per Natale no 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 mi devi lanciare la pubblicità perché ci serviamo solo per un attimo signore signore secondo di pubblicità come l'hai detto Gabriella Farinone all'ora solare durante la pubblicità la nostra autrice Francesca Mancini adorata che è arrivata di corsa Paola mi raccomando parliamo anche di Sanremo 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 perché ce l'abbiamo nel titolo certo che parliamo di Sanremo perché ha fatto tre Sanremo questa signora però una piccola annotazione su questa Piazza Navona me la devi dare Luciano Emmero un grandissimo regista ti vede e ti chiama e chiede agli zii con i quali stavo di potermi fare un primo piano e di lasciare il mio indirizzo e da lì è iniziato è iniziata una carriera strepitosa questa signora della televisione che poi si allontanerà dalla televisione e farà anche cinema ma il cinema lo teniamo per un istante ancora da parte la prossima volta quando vengo no ma che prossima volta assolutamente quando vuoi qui è casa tua Gabriella qui è casa tua facciamo delle puntate attenzione facciamo delle puntate insieme lanciamo quest'idea adesso è un'ottima idea la prendo al volo 1969 con Nuccio Costa 51 anni fa 51 anni fa 1973 con Mike buongiorno 1974 con Corrado Corrado Mantoni allora inizi Sanremo nel periodo caldissimo della contestazione io ti ricordo Bella avevi una pettinatura sembrano due enormi codini salutavi i tuoi bimbi che andavano a dormire era stato Bruno Vergottini che mi aveva mi aveva fatto questa pettinatura il 69 però è stato un anno molto è stato un Sanremo complesso molto complesso perché fuori c'era c'era il caos c'era il caos c'erano però devo dirti che questi eventi gravi che stavano succedendo in tutta in tutta Italia si erano improvvisamente calmati Sanremo aveva un contro festival fatto da Dario Foio e Fran Carame però tutti gli intervenuti che erano soprattutto i giovani iniziato Sanremo si sono calmati e hanno scontato le canzoni hanno visto Sanremo Mike buongiorno e Corrado eccola qua ti vediamo con Mike buongiorno con Peppino Di Capri Peppino Di Capri vincitore Mike mi ha lasciato solo alle due sere precedenti è arrivato la serata finale perché lui aveva un impegno a Milano e Peppino Di Capri con un grande amore e niente più Mike era un gran signore tutti tutti li ho conosciuti e io ho lavorato bene con tutti e Corrado Corrado manteneva sempre quella sua capacità di fare scherzi di essere sì sì quello di mandarti in onda sempre con oddio c'è Corrado oddio c'è Corrado e poi dopo diceva va a fare in onda va bene ti metteva in ansia però insomma attenzione vai a fare in onda tu vai bene però insomma dovevi essere brava per stare alla pari con persone così tra il 1967 e il 1975 sia in radio che in televisione è al fianco di Pippo Baudo questa signora con un disco per l'estate che è una cosa meravigliosa ne ho fatte parecchie edizioni e non capisco perché non lo facciano più perché veniva veramente seguito era bellissimo era bello era piacevole la gente lo seguiva le canzoni l'estate di mezzo c'era l'estate di mezzo si faceva la radio la mattina e poi la gente aveva modo cioè il pubblico aveva modo di scegliersi le canzoni finaliste ecco e quindi c'era c'era questo che effetto ti ha fatto piano piano nel tempo piano piano veloce 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 trovarti al centro che continua e prosegue ancora dell'amore del pubblico che effetto ti ha fatto beh è straordinario perché l'ho messo in pratica l'ho messo in pratica occupandomi soprattutto in Puglia perché mio marito era pugliese e di creare la ricerca un centro di ricerca tu hai fatto una cosa molto bella Gabriella perché nel 77 il sud era sprovvisto veramente soprattutto di centri di ricerca e cura per il cancro e Veronesi venne molte volte e incominciò a parlare alla gente non del brutto male ma del cancro e il cancro si cura si cura con la ricerca si cura partecipando dando al proprio contributo quello che uno può fare e poi molti guariscono e adesso siamo a buon punto sei una donna molto generosa no ho messo in pratica che facevo in Puglia se non facevo qualcosa così utile se no che senso ha essere noti se non poi la notorietà non la usi in modo bella che sei bella e nel 1994 viene nominata grande ufficiale al merito della Repubblica italiana quindi io sto parlando con un grande ufficiale mi raccomando oltre che con una grande donna perché quello che tu hai fatto è stato è stato dare il Presidente della Repubblica mi ha voluto dire è una cosa a cui tengo molto ecco ma per il fine non per tu hai trasformato beh non si trasforma mai un grande amore il grande amore è tuo e nessuno te lo toglierà mai dal cuore però hai trasformato un grande dolore in una operazione a favore degli altri in questo senso dico che tu sei molto generosa beh ma che io credo che lo facciano molte persone sai non ti sto mettendo in coda o avanti ad altri però insomma il tuo il tuo amore cammina cammina con con le vostre con le vostre gambe continuate a essere vediamo tutti sempre un contributo alla ricerca che è fondamentale e a tutte a tutte le iniziative che così deve essere fatto così deve essere fatto c'è Gabriella Farinon mamma io tra tutti senza fare torto a nessuno però mando un bacio a Barbara perché Barbara Barbara Modesti è una bellissima e bravissima giornalista grazie ma insomma i tuoi figlioli che sono cresciuti nell'abbraccio di questa mamma così così bella così famosa eccoti qua sì che però per le figlie femmine diventano più difficili i figli maschi sono più facili insomma la madre nota crea sempre un pochino di ma per carità tu sei una mamma nota con una tale dolcezza no ma non ma non hai detto sai che dura a casa non sono stata una mamma che sa Barbara non ha mai avuto la Barbie ma siamo in due anche la mia mamma ha detto ma perché quella bambola ma siamo in due siamo in due ma non chiudo non chiudo se non passo per un soggetto un soggetto che non si è mai sentito dire questo non si fa la Gabriella Farinon na na la sua bassotta non mi viene a dire che sei dimmi quanto quanto la vizi e quanto tu vizi io non amavo i cavi sì tutti così poi è arrivata nana e ogni tanto il giovedì quando lei lavora che adesso è fuori per l'alta moda e così mi viene data come devo dire affettosissima poi quando uno scopre il è Barbara che ti dà nana è certo Barbara non tornerà mai più indietro questo cane te lo dico ora no guarda verrà un giorno che ti dirà eh però tu sempre in viaggio ma lasciala da me su via sono mamma sta in famiglia resta in famiglia di Gabriella Farinon grazie di essere stata con noi meraviglia grazie 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 Mumble vengono delle buone idee allora Solare voltiamo pagina e adesso attesa un libro da non perdere una persona da non perdere perché è un'intera famiglia da non perdere l'IA piano planimetria di una famiglia felice ben arrivata grazie mille una grande splendida ragazza figlia del grande grandissimo Renzo Piano e qui scatta l'applauso di nuovo perché tanto gli dobbiamo tanto dobbiamo alla vostra alla vostra famiglia lo dico lo dico in due parole questo libro edito da Bonpiani è da divorare è da divorare posso dare del tu posso permettermi perfetto allora planimetria di una famiglia felice poi parliamo della planimetria la vostra è è stata ed è e continua a essere una famiglia felice beh sì l'è stata e sicuramente la ragione per cui questo poi è un romanzo poi lo vedremo lo vedremo è un romanzo ma è anche un grande omaggio alla palestra di gioia che è stata la mia infanzia quindi sì siamo stati senza altro una famiglia felice la palestra di gioia che è stata la mia infanzia a proposito mettete un asterisco sulla parola infanzia perché alla fine c'è un consiglio imperdibile che è proprio lì a piano a darci allora lì a piano che vive a Parigi che cura la fondazione dedicata a cotanto papà ma a Parigi in un posto specifico insomma davanti all'opera a una delle opere d'arte costruite da tuo padre davanti a quello che io considero mio zio perché in realtà ci sono alcuni edifici io vivo di fronte al di fronte al San Trio Pompidou in una in realtà in una finestra o una finestra d'angolo che dà contro un angolo dell'edificio del San Trio Pompidou per stare più vicini chiamata chiamata la finestra di Edipo infatti per non dimenticare per non dimenticare provate ad immaginare ogni città ogni opera costruita un figlio e quindi no oddio non esattamente non esattamente se no la famiglia sarebbe stata molto molto più grande la mamma avrebbe fatto come una volta non so 15 figli però voi approdate a Genova perché questa è la casa del racconto nella casa e abbiamo tante fotografie bellissime la casa che ha una finestra dalla quale voi la notte vedevate la luna piena e tu sei proprio bambina sei piccola quindi questa casa diventa una sorta di meraviglioso splendido parco giochi beh sì diventa in realtà la vicenda di questa famiglia inizia nel momento in cui appunto dopo aver attraversato l'Europa festeggiando più o meno ogni trasoro con un figlio approdano a Genova questa è la casa che è esistita esiste tuttora ed è l'unico personaggio realmente esistito così com'è rispetto al romanzo che ovviamente è romanzato se si chiama plenimetria d'altra parte c'è anche l'idea di giurare fedeltà a qualcosa io ho giurato fedeltà alla plenimetria di questa casa e in qualche modo a quel punto decide di imbarcarsi in questa impresa epica e anche disperata che è quella di cercare di diventare normale che per fortuna fallirà miseramente se no il romanzo non sarebbe stato divertente allora in questo romanzo dove i racconti sono ovviamente legati alla figura del papà della mamma la mamma che ha delle intuizioni geniali che aiuta questi bambini a vivere io mi rifaccio alla copertina infatti la prima cosa che ho chiesto a Lia dico ma è lei ci davamo ancora di lei e lei la bimba in copertina no nella copertina c'è una bambina che sta con la testolina dentro un intero prato di qualcosa di piante di fiori allora voi eravate talmente contenti di vivere in questa casa che era ancora posso definirla prima dei cambiamenti da fare un po' allo stato brado quindi insomma l'erba era alta così in giardino che vi perdevate e scrive Lia Piano mi si trovava perché si cercava la pista sull'erba calpestata esatto e come venne risolto il problema come ti trovo il bambino che fugge beh l'idea della mia famiglia è quella di costruire un cappellino portabandiera su cui è fissata quindi una bandiera che svetta nell'erba quindi in qualche modo si segue la pista della bambina della più piccola di casa attraverso care mamme quando portate i vostri figli ai parchi pubblici se c'è un eccesso di erba alta prendete spunto da questo libro un libro dove dove la bellezza un romanzo e quindi anche le figure che andiamo a scoprire piano piano sono chiaramente romanzate però c'è questo filo unico conduttore della gioiosità e giocosità non dobbiamo pensarlo Luna Park attenzione perché abitato da Renzo Piano e dalla sua famiglia però avevate questo senso della possibilità di costruire sempre qualcosa di nuovo sempre qualcosa di bello come una libreria di 370 metri di lunghezza che gira per tutta casa e che papà il genio fa a diversi livelli perché a sei anni devi arrivare esatto prego a seconda beh non è l'unica cosa in realtà uno dei temi del libro è anche è ad esempio quello dell'educazione cioè questi bambini come dire non è che seguono un'educazione esattamente tradizionale e uno dei principi ecco questa è una foto sto vedendo di sottofondo una foto della mia famiglia e mi ha distratta questa immagine eh sì papà mamma e mia e quella sono io lanciata che meraviglia che devo dire che trasmette a proposito tutta la gioia di certi lanci che da bambini si fa sui propri genitori sì prendo di mira papà e mamma e plano su di loro e ad esempio una delle caratteristiche di questa famiglia che quasi sempre le cose vengono insegnate con l'esempio oppure facendole per esempio e quasi mai ad esempio tutto il capitolo è dedicato al pollaio partecipato vabbè io ero partita dalla libreria col tono e tutto voglio parlarvi del pollaio va bene d'accordo allora parliamo prima del pollaio di casa piano voi immaginate un pollaio normale no intanto arrivano le uova con i pulcini che avrebbero dovuto diventare pulcini per ora erano solo uova e voi allestite nella vasca da bagno esatto un'incubatrice per un'incubatrice per i pulcini perché questa nella realtà è il risultato di una madre estremamente animalista che salva queste 50 uova da un esperimento che in realtà avevano rimandato erano uova gallate e quindi non sopportando l'idea che 50 pulcini potessero essere destinati a morte a morte certa i bambini costruiscono un'incubatrice nella vasca da bagno le previsioni degli adulti sono piuttosto negative sull'indice di mortalità di questi pulcini più o meno 70% 70% sopravviveranno tutti quindi in realtà questa famiglia si trova di colpo ad avere a che fare una famiglia in cui gli animali hanno comunque a Pippo arriviamo tra un attimo al cane Pippo arriviamo tra un attimo c'è nel libro questa cosa del papà che apre la porta del bagno un giorno viene investito da una marea di pulcini e la soluzione a questo punto è quello di costruire un pollaio che è l'occasione per fare questo concorso che concorso casalingo un concorso casalingo assolutamente che io lo chiamo il pollaio partecipato perché alla fine il alla fine il il pollaio viene costruito viene fatto costruendolo direttamente quindi non ci sarà nessun nessun progetto se non la partecipazione di tutti i membri della famiglia alla costruzione del pollaio tranne lo possiamo dire di cosa faranno le galline o vogliamo lasciare la sorpresa come le galline pensate delle galline che si trovavano talmente bene nella casa che raramente entravano nel pollaio costruito da Renzo Piano e siete proprio galline allora però e ve la siete chiamata perché insomma sarebbe stato un motivo di vanto con le altre mai le avessero incontrate a questo non ci avevo pensato è un pollaio io questo ho pensato ma è un pollaio di Renzo Piano ma anche del resto della famiglia ma pur tuttavia vengo a fare io la gallina e qualsiasi cosa nel senso è un onore no le suddette sdegnarono perché perché c'era in questa casa e questa è stata la gioia di una bimba che doveva poi arrivare alla prima elementare come tu racconti questo questo vivere liberamente anche la bellezza del creato perché lo ripeto voi vi stendevate per terra a guardare la bellezza della luna perché vivevate in piena gioia all'interno di questa casa e anche in piena libertà rispetto a se vogliamo andare sul diciamo per chi lo legge chi arriva al finale si può anche capire che la libertà può avere talvolta anche un prezzo cioè può essere una scelta di vita che ha delle conseguenze che bisogna essere come dire pronti pronti a affrontare a pagare eventualmente ma è comunque anche un grande inno ad un livello di libertà probabilmente oggi in qualche modo impensabile impensabile oggi sì eppure sono pochi gli anni che separano la bimba di sei dalla donna che è oggi però sicuramente quella libertà così come viene narrata in maniera sì romanzata ma molto così vicina alla realtà in questo libro alla verità oggi forse un po' più complessa da poter immaginare questo cane Pippo che è protagonista per esempio del primo giorno di scuola ma non si porta il cane a scuola insomma non lo sapevo non lo sapevo però lei si presenta con il cane la mamma che a carnevale a questo cane fa anche un vestitino ci sente dire dalla maestra ma guardi signora non è il caso la mamma simula perfettamente e i bambini purtroppo vogliono insomma qui la domanda è la complice assoluta di queste ragazze ecco questa mamma complice è la figura di papà di papà che per noi è il grandissimo Renzo Piano allora qual è il piano papà e il piano architetto geniale che è bandiera italiana per la quale noi ci onoriamo di poter fare il suo nome in tutto il mondo ma sai io ho voluto nella realtà mio padre è una persona in realtà molto spiritosa io e lui abbiamo un rapporto molto anche oggi che siamo adulti decisamente adulti entrambi un po' più grandi abbiamo un po' più grandi un po' cresciuti abbiamo un rapporto di fatto molto gioioso per cui in qualche modo gioioso e giocoso c'è anche una leggera presa in giro io ho trasformato la figura la figura del padre di questa bambina è abbastanza evidente nel romanzo che si tratta di un architetto o di una persona che ha comunque dimestichezza con il costruire ma io lo chiudo in un seminterrato dove cerca di costruire una barca a vela che non riuscirà mai a far uscire dalla casa quindi in qualche modo c'è anche come lui sostiene una sottile vendetta è anche un pochino un pochino una presa una presa in giro un po' un omaggio perché poi è un personaggio molto positivo un pochino anche la vendetta di dire nella tua vita romanzata ti restituisco tutta quella presenza che nella vita vera non hai potuto non hai potuto regalarmi non c'è potuta non c'è potuta essere e di questo devo dire che lui l'ha colto perfettamente è alla base un grande romanzo d'amore nei confronti di due genitori che hanno avuto il coraggio comunque di far vivere a noi tre figli un'infanzia fuori dagli schemi un'infanzia bella e poetica c'è una tata che si chiama Maria e che arriva da un'altra parte di terra che affaccia sul mare cioè dalla Calabria fino alla Liguria perché poi sapete correndo correndo la costa è unica e che tu la descrivi con enorme dolcezza con grande rispetto questa donna che però impara qualcosa di più impara a scrivere ancora di più a leggere a imparare insomma impara anche da voi bambini è un mutuo scambio voi imparate da lei l'arte di non stare tutti quanti uno sull'altro insomma lei riusciva a sciogliere il nodo dei figli arravugliati come direbbero a Napoli e voi che cosa avete insegnato a Maria? Abbiamo insegnato ad esempio questo è uno dei forse dei punti che preferisco del libro perché effettivamente questa tata che all'inizio del romanzo è analfabeta esattamente come la bambina esatto perché il romanzo inizia perché la bambina deve ancora essere scolarizzata ed è perfettamente e fieramente ignorante imparano imparano insieme quindi è la bambina che insegna a concepita Maria a scrivere e sarà poi lei però Maria che le insegna a leggere che Maria ha un modo molto particolare di raccontare che è quello di raccontare per immagini che è un modo di raccontare che effettivamente ho cercato di utilizzare nel romanzo e quindi sarà lei insegnare lei è analfabeta insegnare alla bambina che basta cogliere qualche parola e poi il legame fra una parola e l'altra in qualche modo verrà io vi invito a leggere questo libro Palellimetria di una famiglia felice perché lì a piano ci ha messo tutto il proprio sapere il cuore e soprattutto perché contiene un grande insegnamento che io ho amato tantissimo vi ricordate che abbiamo parlato di infanzia è un virgolettato non è mai troppo tardi per un'infanzia felice iniziatela adesso qualora la vostra a volte capita non sia stata felice iniziatela in qualsiasi momento anche a 80 anni iniziate ad avere un'infanzia felice lì a piano grazie è stato un onore un onore averti qui con noi ci fermiamo soltanto per un attimo voltiamo pagina grazie a te grazie grazie abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi Monsignor Gian Piero Palmieri grazie vescovo ausiliare di Roma Est delegato per la carità migranti Rom e Sinti sì doppiamente grazie nostra guida in questo periodo quaresimale che ci porterà fino alla Santa Pasqua faremo insieme grazie a lei una riflessione proprio sulla quaresima partendo da ciò che sta accadendo in questo periodo in questi giorni ci stiamo sorprendendo tutti più fragili non è solo un problema per carità importantissimo di carattere clinico di carattere medico è qualcosa che portiamo dentro e cosa dobbiamo fare quando ci accorgiamo che intorno a noi sia tutto più ripeto tutto più fragile ci aiuti lei no ma lasciamoci interrogare esattamente da questa situazione la percezione della nostra fragilità non è una nemica la percezione della nostra fragilità ci riporta alla realtà talvolta noi ci dimentichiamo siamo presi da mille cose però la percezione della realtà così com'è la nostra vulnerabilità la nostra fragilità basta un virus di questo stiamo parlando sì e tutto questo ci riporta profondamente a noi stessi ci fa bene pur comprendendo bene che si tratta di un evento terrificante terribile almeno le proporzioni cominciano davvero a spaventarci però nello stesso tempo è positivo nell'effetto che produce di rientro a se stessi ci sono le estremizzazioni sempre ci si imbatte in chi parla o chi considera questa epidemia è sempre accaduto questo però come una una punizione divina per l'uomo mi appello a lei eccellenza perché insomma Gesù combatte l'idea che il nostro peccato sia punito da disgrazie questa visione che era tipica di una certa tradizione ebraica di Israele Gesù la discute la combatte attentamente cercando di far comprendere alle persone che non è questo il modo di agire di Dio l'esempio più famoso forse nella Bibbia nel Vangelo è quando Gesù si sente chiedere ai discepoli ma quell'uomo nato cieco è nato cieco perché è stato punito in previsione dei peccati che avrebbe fatto o che avrebbero fatto i suoi genitori e Gesù nega totalmente questa logica e facciamo bene a farlo anche noi oggi la ringrazio molto grazie grazie eccellenza oggi il mercoledì delle ceneri inizia il nostro tempo di quaresima intanto che cosa rappresenta il mercoledì delle ceneri e perché lo chiamiamo lo chiamiamo così il mercoledì delle ceneri si chiama così per il simbolo detto dalla liturgia austero delle ceneri e in effetti riferimento a quel terzo capitolo della Genesi dove Dio ricorda all'uomo la sua condizione di mortalità ricordati che sei polvere e polvere ritornerai anche qui il pensiero della morte non serve per prostrarci nella disperazione ma al contrario per attivare tutte le energie di vita che sono dentro di noi certo la quaresima sono 40 giorni insomma fra 40 giorni noi arriveremo alla domenica di Pasqua della Santa Pasqua ecco lo pensiamo sempre come un viaggio lo dobbiamo pensare come un viaggio in fondo è un lungo percorso per arrivare dove? alla riscoperta della propria dignità filiale di figlio di Dio la nostra dignità battesimale la quaresima nasce per accompagnare i catecumeni a ricevere il battesimo la notte di Pasqua e per aiutare tutti i cristiani a riscoprire il proprio battesimo e c'è bisogno di un cammino di 40 giorni in cui ripensando al dono enorme di Dio all'amore di Dio che ci tratta da figli perché lo siamo realmente siamo chiamati a convertirci quindi il registro non è quello del senso di colpa o del senso del dovere il registro è la riscoperta di un dono enorme che è la nostra dignità di figli di Dio parleremo poi appunto del vivere nella preghiera nella carità nel digiuno nell'attenzione digiuno inteso anche come lontananza rispetto a cose che sono decisamente superflue o di troppo invito il nostro il nostro Monsignor Palmi è già diventato nostro a leggere questa pagina meravigliosa dal Vangelo di Matteo il capitolo 6 i versi vanno dall'1 al 6 e dal 16 al 18 lo ascoltiamo state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che nei cieli dunque quando fai l'elemosina non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece mentre tu fai l'elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà e quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando dritti per essere visti dalla gente in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece quando tu preghi entra nella tua camera chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà e quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece quando tu digiuni profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni ma solo il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà e la ascoltiamo sempre il discorso della montagna è sempre regala è come se ogni volta fosse la prima perché apprendiamo qualcosa qualcosa in più preghiera elemosina digiuno perché questi elementi sono così importanti perché realizzano nel linguaggio del Vangelo di Gesù quel distacco necessario per rientrare in se stessi e mettersi davanti al Padre non è un segreto non è un mistero che per noi talvolta la vita è vissuta in superficie siamo presi da milte cose siamo presi dal nostro lavoro dai compiti della vita quotidiana e talvolta viviamo in maniera reattiva cioè ci succede qualcosa se noi istintivamente reagiamo con le parole con i gesti invece la Quaresima ci vuole riportare alla dimensione più profonda di se stessi quello che Gesù dice il segreto lì dove è presente Dio è un tentativo di passare dall'esterno all'interno il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà e questo verso dedicato all'elemosina com'è importante non sappia la tua sinistra che cosa farà a destra il silenzio il silenzio nel fare è esattamente così siamo ripetenti noi noi Monsignore noi no no tutti tutti perché la logica che Gesù denuncia è quella dei farisei che chiama Ipocriti ma è la parte del fariseo che è dentro di noi che fa le cose preoccupato di che immagine di sé media gli altri ma questo non è fare le cose in maniera autentica l'essere autentici significa entrare in contatto con se stessi per chiedersi perché davvero lo faccio e questo facendo il tentativo di mettersi davanti allo sguardo del Padre davanti allo sguardo del Padre noi siamo nudi davanti a Dio non ci sono finte motivazioni lui conosce la profondità del nostro cuore e lì ci interroghiamo sul perché fare l'elemosina perché pregare perché digiunare perché quel modo di vivere e allora contro ogni tentativo di fermarsi alla superficie Gesù ci invita a essere autentici perché se non siamo autentici rischiamo di falsare tutto la relazione con Dio ma la vita in generale dando a tutto questo il giusto tempo per esempio questi 40 giorni che ci separano dalla Pasqua la preparazione alla Pasqua lei ha detto cosa bellissima recuperare la consapevolezza della vita che non vuol dire dimenticare il male fatto i peccati commessi però vuol dire girare la cosa da un altro punto di vista cioè caricare la vita di una forza buona perché oramai le cose commesse sono state fatte allora non voglio dire che un buon atteggiamento possa ripagare però è quello che dobbiamo correre tutti per cercare di ottenere sì e entrando in contatto esattamente con quel santuario interiore dove c'è il padre e ci sono io che sono figlio allora quando noi rientriamo in contatto con noi stessi può succedere quello che lei prima diceva cioè ritorna alla mente il male fatto e questo talvolta ci tormenta oppure ritorna alla mente un trauma vissuto qualcosa che abbiamo l'impressione ci tagli le gambe fin dall'inizio della nostra vita invece rientrare veramente in contatto con se stessi significa andare più in profondità lì dove c'è la mia dignità inviolabile di figlio di Dio e ritrovare il dialogo tra me e Dio a partire dal quale vivere la vita poi posso sperimentare che posso viverla nell'amore l'elemosina sotto lo sguardo continuo di Dio la preghiera e forse scoprire che ho necessità di distaccarmi esattamente da quelle cose che mi spingerebbero a vivere in superficie il digiuno allora tutto questo è una specie di ecologia interiore è la capacità di rientrare in se stessi diventare autentici scoprendo chi sono davvero che è figlio di Dio libero amato e nessuno mi può togliere questa dignità ecologia interiore è bellissimo ascoltiamo è un minuto un minuto e poco più il nostro Papa Francesco proprio sul mercoledì delle ceneri la Quaresima è segno sacramentale del nostro cammino dalla schiavitù alla libertà sempre da rinnovare un cammino certo impegnativo come è giusto che sia perché l'amore è impegnativo ma un cammino pieno di speranza anzi direi di più l'essodo Quaresimale è il cammino in cui la speranza stessa si forma la fatica di attraversare il deserto tutte le prove le tentazioni le illusioni i miraggi tutto questo vale a forgiare una speranza forte salda sul modello di quella Vergine Maria che in mezzo alle tenebre della passione e della morte del suo figlio continuò a credere e a sperare nella sua risurrezione nella vittoria dell'amore di Dio continuare a credere continuò a credere e a sperare periodo Quaresimale così lo definisce Papa Francesco duro ed impegnativo così come è l'amore e si torna sempre al punto al meraviglioso punto di partenza Monsignore sì esatto il cammino Quaresimale è sicuramente un periodo in cui ci mettiamo alla prova cerchiamo ad esempio di vivere il digiuno di metterci davanti a noi stessi di metterci soprattutto sotto lo sguardo di Dio e questo richiede una certa fatica un certo distacco se vogliamo è la parte cosiddetta ascetica della Quaresima ma è un cammino che possiamo fare proprio perché sappiamo che arrivati lì sotto lo sguardo del padre rinasce la fede rinasce la speranza ritrovare le motivazioni per credere e sperare diceva Papa Francesco allora è un cammino bellissimo soprattutto quando è un cammino dove sperimenta ancora una volta la misericordia di Dio per me lo sguardo di misericordia di Dio serve per restituirmi speranza anche di fronte alle situazioni difficili ed è esattamente quello che la Quaresima vuole suscitare dentro di me andare in profondità ed è faticoso per riscoprire la gioia della propria dignità di figlio di Dio e quindi grazie a Monsignor Giampiero Palmieri grazie rotondo pieno e totale l'aspettiamo in studio venerdì venerdì prossimo venerdì 28 febbraio per commentare la prima domenica di Quaresima grazie per essere stato con noi si immagina quanto torniamo domani alle ore 14 lasciate le finestre sparancate l'ora solare entra sempre grazie a voi dentro casa ci vediamo domani grazie 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 grazie